Secondo i signori della CRA deve versare ben 2.000 euro. Il problema è che i 2.000 euro non ce li ho, quindi se voi riuscite a sbloccare i miei soldi e me li inviate, una volta che li ottengo io vi paglio i 2.000 euro. Ma non si può, te lo sta dicendo, non si può inviare così, perché non è solo lei lì, su quel capitale sbloccato, sono diversi clienti, cioè viene fatto praticamente uguale per tutti. No, io ho capito, ma i 2.000 euro non ce li ho, allora mi sembra una dinamica un po' strana questa. Questa è una buona notizia, siccome è stato riuscito a sbloccare questo capitale, non riesco a capire perché è un problema per lei. No, il problema non è solamente per me, è per tutte le persone che continuate a prendere in giro e alle quali spillate un sacco di altri soldi, quando i vostri colleghi a loro volta li hanno già spillati tantissimi altri, quindi smettetela. Amici avete visto, questi burbacchioni se ne inventano uno al giorno per spillarvi facilmente altri soldi, quindi fate sempre molta attenzione. Che dire quindi che per il momento è tutto dal vostro Riccardo Trombetta, sempre pronto a dare fiato alle ingiustizie. Grazie a tutti.